Radio Radicale, siamo col senatore Costanzo della Porta di Fratelli d'Italia per parlare di premierato. Oggi avete approvato l'articolo 5 sull'elezione diretta del premier e le opposizioni hanno abbandonato l'aula. Allora, come ha trovato questa sincronia tra la Camera e il Senato, dove anche sull'autonomia differenziata ieri sera si è sfiorata la risa? Evidentemente si sentono tra Camera e Senato e quindi adottano i medesimi sistemi. Noi abbiamo approvato un clima di discussione generale tranquillo e l'articolo 5, che è l'articolo che disciplina l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, solo al termine della discussione le opposizioni hanno elevato dei cartelli, non sono riuscito neanche a leggere bene cosa c'è scritto sopra, e hanno abbandonato l'aula. Ma questo solo alla fine della discussione, perché sono intervenuti più e più volte, hanno utilizzato tutto il tempo a loro disposizione. Allora, adesso che cosa vi resta da fare sul premierato? Quanti articoli restano? Pensate di finire l'articolato tra oggi e domani? Mancano ancora gli ultimi tre articoli, ovviamente il 6, il 7 e l'8, con gli emendamenti connessi che sono comunque un tomo abbastanza rilevante. Non so se finiremo oggi, male che vada, l'aula è fissata anche domani mattina, proprio in previsione del fatto che non finiremo stasera. I tempi contingentati, quanto è stato utilizzato delle 13 ore delle opposizioni? Le opposizioni? Allora, il PD e il 5 Stelle credo abbiano utilizzato tutto il tempo, forse l'autonomia è qualcosa in meno. Ho capito. Le altre opposizioni, cioè il PD e il Movimento 5 Stelle, possono chiedere alle autonomie di utilizzare il tempo residuo? Regolarmente non so se è possibile, però so che il presidente della Russia oggi li ha comunque fatti parlare, a prescindere dal possibile utilizzo di altri tempi di altri gruppi, comunque ha dato un quarto d'ora in più a prescindere. Certo. Loro vi hanno criticato molto perché voi non intervenite e non rispondete alle obiezioni che loro hanno fatto. È una polemica sterile, siamo intervenuti più volte in commissione. D'altra parte il testo lo abbiamo prodotto noi, lo conosciamo benissimo. Sono loro che devono in qualche maniera contestarlo. E devo dire che lo fanno, per l'amor del cielo, il loro mestiere, il loro lavoro, il loro ruolo, ma anche essendo molto ripetitivi negli interventi in discussione. Quindi dicono le stesse cose per ore, quando potrebbero dire con molto meno tempo. Però è giusto che sia così, hanno il tempo. Non possono però pretendere da noi che spieghiamo cose che ben conosciamo. Quindi i tempi del voto finale per il 18 saranno rispettati? Sì, male che vada, sì. Stiamo andando di buona lena. Voi vi aspettate dopo il voto di questa lettura al Senato in tempi all'inizio dell'autunno la legge elettorale? Certamente l'obiettivo era quello di cominciare anche lo scrutinio della legge elettorale non appena fosse finita la prima lettura qui in Senato del premierato. Quindi ritengo la sua considerazione verosimile. Come ha trovato le accuse delle opposizioni che dicevano senza la legge elettorale stiamo votando ancora una riforma di cui non capiamo? Che l'ho spiegata in aula nel mio intervento sul premierato. La legge elettorale è la logica conseguenza della riforma che stiamo facendo. Se non avessimo fatto la riforma del premierato non ci sarebbe stata necessità di adeguare a questo provvedimento una legge elettorale ad hoc. Lei che è in prima commissione, le volevo chiedere se le opposizioni volevano all'inizio della prossima settimana mettere il DDL sulla cyber security prima del premierato per prendere un altro po' di tempo. Sì, ci hanno anche provato, ma noi andiamo dritti per la nostra strada. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie al senatore Costanzo della Porta di Fratelli Italia con il quale abbiamo parlato del premierato che arriverà in aula per il voto finale il 18 giugno prossimo. Grazie. 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 Grazie.